Musica Buongiorno, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo in carcere perché ad alcuni detenuti della casa circondariale di San Donato o di Pescara è stata concessa l'opportunità di riabbracciare le loro famiglie e di sfidare i bambini a una partita di calcetto. Il progetto partita con papà si propone così di mostrare un volto più umano del carcere. Vediamo. Partita a calcetto padri contro figli. Sembrerebbe un banale momento di sport in famiglia se i padri non fossero alcuni dei detenuti del carcere pescarese di San Donato e i figli bambini a cui è stata concessa questa occasione per riabbracciare il proprio genitore. E il progetto partita con papà, ormai giunto alla quinta edizione, promosso dall'associazione Bimbi senza sbarre in collaborazione con il Telefono Azzurro e la Croce Rossa italiana di Pescara. In genere si pensa ai detenuti ma non alle loro famiglie e ai bambini che vengono a fare colloquio. Il fatto che oggi possano trovarsi in uno spazio esterno a giocare e tifare per il loro papà mi sembra veramente bellissimo. Diciamo che la partecipazione è volontaria, abbiamo selezionato i detenuti che hanno già i presupposti normativi per poter uscire quindi hanno già fatto un bel percorso di revisione critica del loro passato. E abbiamo coinvolto le famiglie, ci sono dei volontari che ci aiutano. La situazione nelle prigioni italiane è drammatica e svela tutta la meschinità del sistema carcerario. Nel 2019 nelle patrie galere sono morti 123 prigionieri, di cui 46 si sono tolti la vita a causa delle condizioni detentive a cui erano costretti. In questo desolante scenario la casa circondariale di Pescara non fa eccezione. I dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria svelano che qui è rinchiuso un numero di persone che è quasi doppio a quello della capienza stabilita per questa struttura. Ad ottobre un detenuto tossicodipendente, da poche ore dietro le sbarre, in preda a una crisi d'astinenza ha manifestato tutto il suo disagio devastando la cella in cui era posto. Questa mattina però l'atmosfera era del tutto diversa. Sui volti dei carcerati vi erano ampi sorrisi ed era possibile scorgere anche un po' di commozione dietro gli abbracci alle loro famiglie. Un momento di gioco spensierato, un'occasione per spezzare la routine a cui debbono sottostare in attesa di riconquistarsi quella libertà che è stata loro negata. Andiamo ora a Lanciano dove il sindacato della Polizia Penitenziaria Abruzzese denuncia una situazione insostenibile per gli agenti che continuano a lamentare la carenza di personale. Vediamo. Gli agenti di Polizia Penitenziaria lavorano in un clima insostenibile all'interno del carcere di Lanciano. A denunciarlo è la Wilpa Penitenziari che segnala un'aggressione ogni 40 giorni registrata nel corso del 2019 nella casa circondariale di Villa Stanazzo. Ad oggi si contano nove aggressioni fisiche con prognosi da parte dei detenuti e i danni di agenti penitenziari, denuncia il segretario Wilpa Abruzzo Ruggero Di Giovanni. Ma anche una sequela infinita e giornaliera di minacce e vestazioni che hanno creato un senso di impotenza negli operatori. L'ultima aggressione in ordine di tempo è quella avvenuta il 2 dicembre scorso quando un assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto campano del circuito Alta Sicurezza riportando una prognosi di sette giorni. L'episodio, riferisce Di Giovanni, si è registrato durante una visita informale del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria a Lazio Abruzzo e Molise, Cantone. Era un'aggressione annunciata, dice Di Giovanni. Certo, addirittura settimana scorsa abbiamo avuto due aggressioni, una il lunedì e una il venerdì. Ma quello che ci preoccupa è che quella del venerdì era stata, tra virgolette, annunciata a marzo di quest'anno. C'è una circolare del capo del Dipartimento che dice proprio che i detenuti particolarmente violenti, quelli che mettono in atto aggressione o minacce pesanti, vanno trasferiti proprio per evitare questa cosa. Da marzo a dicembre questo detenuto non è stato trasferito. Adesso noi ci chiediamo come mai. Se è la direzione che non chiede l'allontanamento, il provveditorato che non mandava di la pratica o lo stesso Dipartimento che per inerzia trasferisce un detenuto dopo nove mesi. E quindi che cosa chiede la UILPA? Noi chiediamo, a parte che venga applicata questa circolare innanzitutto, perché se l'allontanamento deve essere immediato, come dice la circolare, immediato e subito, non dopo nove mesi. Oltre a questa aggressione, che abbiamo una media di un'aggressione ogni 40 giorni nel carcere di Lanciano, adesso si sta pensando di aprire un nuovo reparto senza mandare un nuovo personale. Al massimo sono 20 posti. A noi invece ci toglie altri 10-12 unità al giorno e ci creerebbe un serio problema. Di gestione proprio sia della sezione che delle ferie, che dei riposi, che noi adesso a stendo riusciamo a gestire l'ordinario. Questa nuova sezione potrebbe essere proprio la goccia che fa traboccare il vaso. Andiamo avanti con la politica. In vista della conclusione del 2019, l'assessore alle opere pubbliche e alla mobilità del comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, traccia un bilancio dei primi 150 giorni di lavoro e delinea le prospettive future delle infrastrutture cittadine. Alfredo Primante. Sono stati 5 mesi nel segno della continuità a quelli dell'assessorato alle opere pubbliche del comune di Pescara guidato da Luigi Albore Mascia, che in capo a sé ha anche la delega alla mobilità. I primi 150 giorni da assessore, Mascia racconta di averli spesi nel portare a termine le opere iniziate sotto la consigliatura Alessandrini, la riqualificazione di Via Pepe, il completamento del lungomare sud e della piazza Antistante, l'anfiteatro d'Annunzio, solo per citarne alcuni. Ci sono poi i soldi del bando per le periferie con gli interventi di riqualificazione in piazza Caduti del Mare a Borgo Marino Sud e la riqualificazione di un quartiere difficile come quello di Fontanelle con l'intervento urbanistico in Via Caduti per Servizio. Quello che è importante è anche sottolineare che questi lavori di fatto vanno a colpire positivamente tutta la città, non soltanto aree centrali o aree di maggiore frequentazione, ma anche le cosiddette aree periferiche rispetto alle quali l'Aggiunta Masci avrà grande attenzione in questo quinquennio. Con l'approvazione del DUP, il documento unico di programmazione urbanistica, l'assessore Mascia assicura che nel prossimo quadriennio ci sarà un nuovo slancio verso la mobilità sostenibile e per cercare di dare vita ad opere in ballo da decine di anni. La strada parco è l'area di risulta su tutte. Credo che questa linea guida che arriva dall'Europa, arriva dai ministeri, di offrire un'alternativa all'uso dell'automobile sia comunque una linea da sposare, sia perché questo consente di avere risorse economiche, ma soprattutto perché consente di avere una migliore qualità della vita, di offrire ai cittadini un'alternativa. Intanto sulla questione mercatino etnico, quella più stringente dopo la chiusura, al di là della discussione nella maggioranza sulla destinazione d'uso, Mascia chiede che possa diventare in quota parte un centro nevralgico per la mobilità green. Mi riferisco al fatto di avere un'area di risulta a fianco che ad oggi accoglie 1750 auto, ma di avere anche la possibilità poi una volta lasciata in sosta, in tranquillità l'automobile, poter utilizzare magari una bicicletta, una bicicletta muscolare, una bicicletta assistita, ma comunque avere anche un'intermodalità. Questa è la filosofia verso la quale vanno tutte le città più evolute e Pescara è una grande città. Torniamo adesso sulla Via Verde. Grido d'allarme da parte degli operatori ricettivi che a primavera temono l'arrivo di cicloturisti da tutta Italia che potrebbero trovare un'infrastruttura incompleta. Il rischio è quello di un negativo effetto boomerang, visto che l'inaugurazione è fissata a luglio del 2020, salvo ritardi ovviamente. Ascoltiamo Peppino Susi della FIBA con Ferser Centi. Oramai nell'immaginario collettivo e sul web questa pista esiste già, quindi rischiamo che vengano dei turisti che si aspettano di trovare la pista e non la troveranno. Questo probabilmente provocherà un effetto boomerang non indifferente. È importante affrontare questa questione. Ci hanno detto che ad agosto la resinatura non poteva essere realizzata perché faceva troppo caldo. Immagino che d'inverno non si possa fare perché fa troppo freddo. Troveranno un momento per terminare la pista. Però al di là dell'ironia e degli scherzi, è necessario che comunque i tratti che è possibile aprire vengano aperti al più presto. È necessario che si stabilisca una concertazione tra tutti gli enti interessati affinché si comincia ad immaginare che questa è un'infrastruttura turistica, non è semplicemente una striscia d'asfalto. Su quello che dovrà essere la via verde, sulle opportunità che può offrire, sui servizi che deve offrire, che si devono costruire intorno a questa via verde, non ancora iniziamo a parlarne. È importante che la politica trovi un momento per trovarsi insieme e per cercare di ragionare su queste cose. Vi raccontiamo ora un fatto eccezionale perché dei lupi si sono spinti fino al centro abitato di Canosa Sannita in provincia di Chieti. A raccontarcelo c'è collegato con noi il sindaco Lorenzo Di Sario. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Bene, allora sono giunti dei lupi fino nel centro del suo paese. Sì, precisamente. Sono arrivati due lupacchiotti, la cosa risale a tre giorni fa. Attualmente si trovano ancora lì perché sono tre sere di seguito che ci fanno visita e mi vediamo comodamente passeggiare per le vie del centro. Comunque io ho provveduto ad avvisare tutte le autorità competenti. Non è che ci sia un allarmismo. La popolazione è stata avvisata. Comunque stiamo prendendo tutti i provvedimenti del caso. Bene, è un fatto che appunto ora è in sicurezza, non ci sono pericoli, rimane solo una curiosità molto affascinante della natura del nostro territorio. Grazie al sindaco di Canosa Sannita, Lorenzo Di Sario. Andiamo avanti ora col nostro telegiornale. Novità assoluta presso l'ospedale San Massimo di Penne, dove per la prima volta è stato effettuato un intervento di protesi al ginocchio con l'aiuto di un sistema computerizzato. La soddisfazione nelle parole del dottor Palmieri, responsabile del reparto di artroscopia e traumatologia del nosocomio vestino. Novità assoluta presso l'unità operativa di artroscopia e traumatologia dell'ospedale di Penne, diretta dal dottor Domenico Palmieri, che dopo aver affinato la tecnica all'Ione in Francia, per la prima volta ha eseguito un intervento di protesi di ginocchio assistito da un sistema computerizzato optoelettronico definito navigatore. Il sistema di navigazione consente la ricostruzione geometrica e tridimensionale del ginocchio da operare e trasmette in tempo reale al chirurgo informazioni su come si sta eseguendo l'intervento chirurgico al fine di ottenere una precisione ottimale del gesto operatorio. Questa volta abbiamo voluto utilizzare un sistema di navigazione, cioè una sorta di computer, che durante l'intervento ci guida in quello che noi facciamo normalmente, proprio con l'ausilio di questo sistema. È un intervento che sicuramente richiede qualche tempo in più nel gesto chirurgico, però ci permette di dare una precisione nell'impianto, che a sua volta sfocerà con affidabilità e una durata dell'impianto stesso nel tempo maggiore rispetto a quello che normalmente si fa solo con l'ausilio delle normali strumentazioni. Il navigatore dunque non va a sostituire il chirurgo, bensì lo supporta nella fase dell'intervento, specialmente nelle incisioni di precisione, compensando la mancanza di visibilità nelle mini incisioni della cute e dei tessuti articolari. C'è appunto questo computer, questo software, col quale ci confrontiamo ogni istante per vedere al millesimo e al centesimo di grado quello che noi stiamo facendo e come lo stiamo posizionando. Noi vorremmo continuare a fare le nostre protesi di ginocchio, quindi non solo oggi, con questo tipo di sistema, quindi cercheremo di standardizzarlo e di usare per tutte le volte che facciamo una protesi di ginocchio un sistema di navigazione. L'intervento è riuscito perfettamente, con la grande soddisfazione del dottor Palmieri e della sua equipa. E' ancora un motivo più di orgoglio perché lavoriamo in un ospedale, tra virgolette, piccolo, però dove col tempo stiamo facendo delle cose carine e interessanti. La cosa appunto più importante è che tutta la comunità vestina risponde veramente bene, quindi io sono accerchiato da tanta gente che fa il tifo per l'ospedale, che sostiene l'ortopedia e soprattutto il grande sostegno dell'azienda in cui lavoro, che per me è il primo motivo di orgoglio. Si è tenuto questa mattina all'Università di Teramo un convegno su nuove droghe e dipendenza. Le scoperte dei ricercatori della Facoltà Teramana di Bioscienze hanno fatto il giro del mondo. In prima linea anche la diocesi di Teramo-Atri. Ascoltiamo Tania Bonnici-Castelli. Le nuove droghe fanno paura ed è necessario che i più giovani ne conoscano composizione e pericoli. La dipendenza o la tendenza ad esserlo la si potrebbe riconoscere precocemente da alcuni stili di vita. Sono ricerche importanti queste, realizzate dalla Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, studi che hanno fatto il giro del mondo. C'è una interrelazione stretta tra, per esempio, le dipendenze create anche dall'IT, quindi dal cellulare, dallo smartphone, dall'uso compulsivo di Facebook, piuttosto che Instagram e altri social network e questa possibilità di alimentarsi troppo con il cibo può portare anche all'uso di droghe. Quindi diciamo che ci sono dei campanelli di allarme che devono essere messi bene in evidenza, soprattutto nei giovani. La Facoltà di Bioscienza ha una potenza di fuoco, di chimica analitica enorme, noi collaboriamo anche con la polizia scientifica in questo ambito, per il riconoscimento di nuove droghe, quindi di nuove molecole che ahimè sono sintetiche e sono commercializzate da queste, diciamo, ovviamente la mafia, da queste associazioni a delinquere e queste nuove droghe sono forse tra le più pericolose. I risultati sulle nuove droghe e sui meccanismi delle dipendenze sono stati ampiamente illustrati nell'aula magna dell'Università di Teramo dai ricercatori teramani agli studenti delle scuole superiori, uno degli incontri previsti dal progetto Craino, che mira il coinvolgimento delle generazioni più giovani. All'iniziativa è intervenuta anche la diocesi di Teramo Atri, impegnata in prima linea contro le tossicodipendenze. Una diocesi, in questo caso la diocesi di Teramo Atri, come può o come aiuta concretamente i ragazzi affetti da dipendenza? Beh, li deve aiutare soprattutto tenendo presente che la dipendenza non è necessariamente legata soltanto ad una dimensione negativa dell'esistenza, ma può essere legata anche a dimensioni positivi che non si riesce a gestire. La dipendenza può nascere sia dall'incapacità di gestire il successo, sia dall'incapacità di saper gestire il dolore. E di conseguenza la diocesi ha il compito fondamentale di educare questa nuova generazione ad affrontare l'esistenza, alla capacità di affrontare sia il dolore e alla capacità di saper gestire eventualmente il successo che uno meritevolmente, attraverso la sua preparazione e le sue capacità, può ottenere nella sua vita. Torniamo a Pescara, dove la Cittadella dell'Infanzia apre i battenti e offrirà servizi gratuiti per bambini fino a 6 anni, ovviamente per le loro famiglie. Apri a Pescara la Cittadella dell'Infanzia, un progetto dedicato ai bambini da 0 a 6 anni che comprende tante attività completamente gratuite. La cooperativa sociale Orizzonte è capofila di una cordata di 20 partner, tra istituzioni e associazioni del terzo settore. Il progetto comunque ha la particolarità di essere diffuso sul territorio, per quello si è partiti già a ottobre del scorso anno in attesa che completassero la struttura, perché erano già previste delle attività, ad esempio si lavora nelle scuole, sono quattro comprensivi scolastici che fanno parte del progetto e all'interno di queste scuole ci sono degli sportelli di ascolto, dei genitori, di consulenza per genitori e insegnanti e anche dei laboratori all'interno delle classi, sempre nell'ottica di supportare la crescita dei bambini e supportare i genitori nel loro ruolo. Il progetto è realizzato grazie al Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e suscita tutta la soddisfazione dell'amministrazione comunale. Praticamente questo è un centro di aggregazione, lo definisco così, dove noi come amministrazione comunale ci siamo adoperati molto per far sì che questa struttura avesse luogo e inizio. Il comune è molto sensibile a queste iniziative e noi ci aspettiamo di avere altre iniziative come queste, perché soprattutto quando si parla di infanzia e di bambini con un disagio sociale è giusto starli vicino e dare loro una mano sia a loro che ai loro genitori. Per noi è molto importante perché è bello vedere che anche questi bambini meno felici possano trovare in questi luoghi un po' di felicità insieme agli altri bambini, insieme agli insegnanti che li seguono e li portano avanti nel loro percorso formativo. Povertà in forte aumento in provincia di Teramo. La Fondazione Tercas ha così deciso di sostenere circa 800 famiglie bisognose in occasione del Natale. Saranno destinati loro buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Vediamo il servizio. L'ultimo rapporto della Caritas Diocesana di Teramo Atri relativo al 2018 ha evidenziato quanto la povertà abbia inciso notevolmente sulla popolazione teramana. La Fondazione Tercas, da sempre impegnata nel sostegno del sociale, ha pensato in occasione delle imminenti festività natalizie ad un aiuto diretto ed immediato a persone e famiglie in difficoltà economica. Proprio a loro saranno consegnati in coordinamento con la Caritas Diocesana, il Banco di Solidarietà Onlus, i gruppi di volontariato vincenziano e il supermercato Conad di Villa Mosca di Teramo buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità. Saranno circa 800 i nuclei familiari che potranno avvelersi di questo dono che la Fondazione offre loro perché possano festeggiare più serenamente il Natale. Il Presidente Gianfranco Mancini ringrazia tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere offrendo il loro volontariato e il loro prezioso contributo per garantire la migliore riuscita dell'iniziativa. La vicinanza e l'impegno a prendersi cura di chi è meno fortunato non deve venire mai meno, ha poi sottolineato il Presidente Mancini, tanto più da parte della Fondazione Tercas, punne la consapevolezza che per contrastare il problema della povertà è necessario attivare nuove politiche di welfare. Ed è arrivata a Copiosa la neve sulle montagne abruzzesi, anche se non ancora in quantità tale da consentire l'apertura delle piste in tutti i comprensori sciistici. Sul Gran Sasso, a Campo Imperatore, questa mattina cielo sereno, temperatura a meno 6 gradi, vento forte in funzione la funivia, anche da Fonte Cerreto che conduce a quota 2200 metri. Al momento la scarsità del manto nevoso non consente, come abbiamo detto, l'apertura delle piste. Le temperature minime più basse sono state registrate in località Piani di Pezza, nel territorio del comune di Rocca di Mezzo, in provincia dell'Aquila, ben meno 10 gradi centigradi alle 8,05. Sul Monte Gensana, meno 7,3 gradi. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale che apriamo come di conseguito con la Serie B. Seduta pomeridiana per il Pescara, per la gara di sabato a Frosinone, il tecnico Luciano Zauri non recupera Fiorillo e potrebbe dover rinunciare anche a Brunori a causa di una distorsione alla caviglia del rendimento della squadra. Ieri ha parlato anche l'ex allenatore Giovanni Galeone. Ascoltiamolo nel servizio. Pescara indecifrabile. La lettura essenziale e incesiva è quella del Gale. Una visita di cortesia all'amico Andrea Iaconi, al Bonolis di Teramo. Poi Giovanni Galeone non si tira indietro quando si tratta di parlare di calcio e più in particolare del suo Pescara. Ancora non riesco a individuarla. L'ho vista giocare in dei momenti buoni, per esempio i primi 20 minuti con il Perugia dove ero stato invitato dal Perugia a vederla. Non ce la faccio. Però dopo non riesco ancora a capirla. Gioca bene 20 minuti, è indecifrabile. Vedi Venezia 2-0, partita finita, ma alla fine avrebbe dovuto perderla. Una squadra non può dare 4 gol al Benevento che ha subito in tutto 7 gol. Gli dà 4 gol al Benevento e perde con la Juve Stabia in casa. Cioè è una squadra un po' indecifrabile. Non riesco a capirla molto bene. Pescara che continua a preparare la trasferta di sabato a Frosinone ci sarà ancora da attendere per il rientro di Vincenzo Fiorillo che non ce la fa per il match dello Stirpe dove toccherà ancora Castrati. Anche se giungono spifferi di mercato che vogliono il Pescara essere interessato all'esperto Federico Marchetti sotto contratto con Genua ma finito fuori dai radar del tecnico Tiago Motta e del predecessore Andrea Zoli un interesse nato dalle incertezze di Castrati anche se resta il dubbio di quale possa essere la gerarchia tra i pali in caso di un effettivo arrivo dell'ex Cagliari e Lazio e di guarigione di Fiorillo che del Pescara è anche leader e capitano. Intanto il tecnico Zauri sarà quasi certamente privo di Brunori vittima di una distorsione alla caviglia e spera di recuperare un acciaccato scognemiglio viste le condizioni già precarie di Campagnaro e Drudi altrimenti Ciofani ex della prossima partita e che pronto a tornare titolare a destra potrebbe scalare al centro. Nella squadra di Nesta mancherà il centrocampista nazionale svedese Markus Rodien per un infortunio al ginocchio riportato contro la Juve Stabia e che in attesa degli esami strumentali si teme sia grave. Frosinone Pescara è anche un potenziale incrocio di mercato dal centro laziale rimbalza la voce di un interessamento del Delfino verso l'attaccante Nicola Citro vicenda sulla quale è stato interpellato dai colleghi di Extra TV il presidente Daniele Sebastiani. Noi in questo momento non stiamo assolutamente pensando al mercato ve lo assicuro tutto quello che esce fuori non è farina del nostro sacco e soprattutto per carità non metto in discussione i nomi o i giocatori perché sono giocatori il fatto di che Ciro sia Frosinone vuol dire che come dicevo prima è un giocatore importante però noi in questo momento non stiamo pensando al mercato stiamo pensando a queste ultime partite da qui alla fine del girone d'andata cercando di fare il meglio possibile. Serie C domenica il Teramo chiude il girone d'andata contro il Catania Biancorossi a 24 punti che cercano ora il successo contro gli etnei di Cristiano Lucarelli per dare una piccola sterzata ad una prima parte di stagione che però secondo il difensore Matteo Piacentini non è stata totalmente negativa ascoltiamolo La nostra chiave interna direttura secondo me è quella che abbiamo fatto non dico benissimo ma neanche male cioè non è da buttare via questo girone d'andata secondo me considerando che all'inizio abbiamo fatto magari un po' di fatica perché come sappiamo c'era la squadra nuova non ci conoscevamo abbiamo avuto un po' di magari di problemi ma ci siamo ci siamo messi diciamo a posto velocemente e abbiamo fatto una buona fase centrale e adesso anche se mancano da un po' i tre punti abbiamo fatto secondo me delle buone prestazioni sulla carta ci dice che queste le prime cinque hanno preso il via e stanno facendo veramente tanti punti e noi dobbiamo provare in tutti i modi a stare dietro a queste grandi squadre il playoff ovviamente noi dobbiamo fare quello dobbiamo fare il massimo che nelle nostre possibilità fare però il playoff credo che sia obiettivo fattibile noi in tutte le partite proviamo a a portare i punti i più punti possibili a casa da cambiare non sta a me dire se c'è qualcosa da cambiare o dove dobbiamo cambiare qualcosa perché secondo me è nel compito del mister dire certe cose però secondo me impegnandoci al massimo possiamo ottenere risultati importanti in queste ultime due partite l'ultima di andate prima di ritorno prima della sosta anche se come ha detto lei sono partite sulla carta difficili perché sono squadre rinomate abbiamo lavorato secondo me molto bene ma nel complessivo non solo in linea difensiva ma tutta la squadra che ha fatto sì che a noi difensori di ruolo non siano arrivati tutti questi pericoli diciamo sono molto felice appunto per questo fatto che ho giocato tutte le partite da titolare per ora ho giocato sicuramente partite buone e alcune meno buone però felice della fiducia che il mister mi sta dando mentalmente sicuramente non è facilissimo da accettare però stiamo cercando di lavorare per raggiungere questi tre punti che mancano appunto da parecchio però secondo me se continuiamo così lavorando settimana dopo settimana con impegno come facciamo durante la settimana riusciamo a raggiungere questo obiettivo importante questa era l'ultima notizia la nostra edizione del TG6 si conclude qui tutti quanti i servizi li potete recuperare sul canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it io vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 19 grazie e buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.